Buongiorno ragazzi, bentornati su Bertra Reaction, il canale che a quanto pare pubblica 8 volte tanto il mio canale principale e che funziona altrettanto bene. Oggi, memini, ma non memini qualunque, memini che mi avete mandato voi. Perché sì, trovate in descrizione un form dove mandarmi i link dei vostri memini che volete farmi vedere. Ho 22 risposte, ci facciamo un video, vediamo se siete decenti. Quindi, prima di partire, al volo. Passate dal canale principale, ovviamente, iscrivetevi per l'amore del signore, e passate da Twitch. Siamo in live dal lunedì al giovedì, sempre. SEMPRE! Primo memino, cosa mi avrete mandato? Batman Fortnite Ok, sarà questo il livello medio? Non lo so, ma Batman Fortnite riceve un... non mi ha fatto ridere. Noi, Dani? Dai! Questa bella idea! Perché? Allora, non ne ho molto apprezzato, però chi è che ha riso in quel modo? Ah, bene! Ok, oddio! Gli hamburger di Among Us! In Fortnite? Ma che cazzo? Fortunogus, Among Nights! Tu 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 tu, tururu! Comunque guardate quanto è Cursed i miei video consigliati qua. Volete un video su quello che è la mia home di Youtube di Bertra Reaction dopo un mese che lo uso? Fatemelo sapere nei commenti. Cos'era? Perché? Ok? Non lo so, non lo so Questo mi ha solo confuso Me, questo riceve un me Ma che cazzo? Ok, questo mi ha fatto ridere GTA V, gioco più memato del 2000 sempre Ancora oggi Bello Questa è un'opera d'arte Questa è un'opera d'arte Ogni volta che io dico Pene, si sentirà quel rumore adesso Sono sicuro che Gabriel non lo farà E mi farà qualche battutina di merda Io ti tengo d'occhio Bello comunque, metta il pa- Ciao ragazzi, sono Goku A chi sto preparando? Allora, chiunque tu sia Ad aver fatto il video con la voce più bassa Dalla musica Io ti odio Io ti sto odiando È Goku No, vabbè Ed è veramente buona Non vedo l'ora di gustarla Mentre guardo San Ramo Sono... Sono... Caparezzo sai proprio tu Mannaggia Non lascerò che tu rovini la mia pasta Caccia Macaron Nooo Ecco Combatti Caparezzo Oddio E distruggereò la tua caccia Macaron E non potrei fermarmi Ci farò la solda sopra E ti porterò a foggio Perennemente No, a foggio no Ti prego No, a foggio no È beccato Capra Sembra che tu non sia a conoscenza Della regola della caccia Macaron Quando sto facendo caccia Macaron Nissima c'è scasso cazzo Me ne ero dimenticato È la fine Ma è a scarafaggio What the hell Nooo Perché cioè sei stato ciocco pesciato Scusate Oh no Sta correndo Mi piace anche che il titolo di questo video sia Personaggio cinese verde 10 su 10 Musica selvaggio E anche le spose bambine Il re non andava bene Avete fatto benissimo a tagliargli la testa In culo e sindacati Al diavolo i diritti dei lavoratori Licenziamo Abbassiamo le tasse Riduciamo il welfare I ricchi guideranno il paese Verso un nuovo grande mistero Perciò diventa nazista anch'io Beh la donna non è proprio in grado di fare tutto quello che può fare È un po' più debole Anche mentalmente è un po' inferiore C'è poco da fare La donna è inferiore all'uomo Che in democrazia Votano gli uomini Vite le donne E i presidenti della repubblica sono uomini Micadone Oh Buono No barbero no ti prego Fermati Cosa stai dicendo Diagrammi scientifici che sembrano meme con la musica della Wii I pantaloni vestiti dal ratto La integrata sopravvivibilità cipolla Non farti vedere Non farti targettare Non farti colpire Non farti penetrare Non farti uccidere Ha senso Ha senso Come gli orchi A strati Tutu Tutu Con i piedi lunghi Ho dei piedoni Perché Quanti articolazioni Quanti movimenti Come un serpente Perché il gatto sta urlando Perché non dovrebbe urlare Se tu fossi intelligente Faresti la stessa cosa Quasar Vacuum Kepler Phase Funnel È un cesso spaziale Woohoo Perché Piccione mano Mano piccione Yes Yes Vabbè L'aerodinamica di una Di una ragosta Sempre bellissima No No Il fegato dell'orso polare Non c'è più Alcolista Alcolisti anonimi Fine Bellissimo Mi è piaciuto di brutto Voglio altri video Tutti i video del mondo Così li voglio Andando avanti Ma deve smettere Di partire i video Da soli Senza che io glielo chieda Perché io mi cago in mano Cioè ti pare Che è partita Sta cazzo di musica qua Dal nulla Oh Consigli sugli scacchi Ah ah Sì Giusto Oh Si fattola a parlare Oh no La rivoluzione Di classe Ecco la La rivoluzione No Molto bello Mi è piaciuto Bel meme storico 10 su 10 Farebbe un'altra rivoluzione Allora Andiamo avanti Vediamo un po' Cosa ci donate oggi Un'ora di Maxwell Funk Voglio Voglio sentire com'è Perché magari Finisce nella playlist Funky Funk Non dico di no Oh yeah È bella Io non ce la posso fare Ragazzi È bella Adesso mi tocca Metterla su Spotify Pascoli Montali dice Pascoli E si caga addosso Questo è sempre Un grande pezzo di storia Se volete farlo vedere Ai vostri prof Basta Basta fare questo Ti odio Ah Meet the belt Madonna E lì ti rendi conto Che sei vecchio Sono vecchio Sono vecchissime Perché Cioè Siamo vecchi Siamo vecchi Cioè Alcuni di noi Alcuni di voi So che non lo siete Pezzi di merda Wow L'ultimo link è Stoccazzo Siete stati Stoccazzati Pippa Pippa Piri Pippa 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 Pippa